Maradona mi ha rovinato la vita. Questa frase che Pietro pronuncia con sofferenza non è un'accusa, anzi, Pietro è sempre stato grato a quello che continua a definire come l'unico vero amico della vita sua. Semplicemente Pietro sta ammettendo che Maradona poteva fare tutto, perché era grande in ogni cosa che faceva. La sua personalità gli permetteva di sbagliare e poi rialzarsi. Ma lui era Pietro Puzzone, non Maradona. Diego non l'ha mai obbligato a fare nulla. Pietro lo ammette. Ha scelto lui di drogarsi e di andargli dietro in quelle notti. Finalmente si mette a nudo e parla dei Natali buttati, dei giorni sempre uguali, col crack da comprare a 15 euro a bustina e poi il periodo di forte dipendenza dalla cocaina. Pietro, nel suo solito dialetto, mi dice, se avevo un milione, mille euro, li buttavo in un solo giorno, fino a rientrare la notte, sfondato. Ciao! 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 Ciao!